Ciao ragazzi ragazze, buongiornissimo Barbasso, oggi tenuta, tenuta interista, vi faccio vedere di chi è questa maglia Darmian Oggi sono particolarmente felice di indossare questa maglia, la prima volta che lo faccio su questo canale è stato un regalo di compleanno Grazie ai miei amici Interporto 0 a 0, come si prevedeva una partita tignosa La mia amica Silvia, milanista, ha perso la bolletta perché aveva messo che l'Inter avrebbe segnato in questa partita E io avevo detto, l'Inter scusate, che qualcuno avrebbe segnato in questa partita Io ho detto attenzione perché non ne sono molto sicura e Andrea Onana ha detto no Andrea Onana ha detto no, Andrea Onana che giustamente si prende gli onori della cronaca Però direi anche un Matteo Darmian, non perché ha la maglietta, che ha tappato molto bene i buchi Una difesa che ha tenuto addirittura Dumfries con un salvataggio Ma soprattutto il buon daglione D'Ambrosio che rispetto a quello che, ahimè, posso dire, hanno fatto Bastoni e ha fatto Di Marco Ha messo a tacere la vellità, la vehemenza e la voglia dei giovani del Porto sulla fascia Io avevo detto che questa era la partita più importante della stagione Ieri però ho dimenticato un dettaglio, ho dimenticato il dettaglio della comunicazione allucinante Che hanno fatto il social media team del Porto rispetto alla partita Ovvero la comunicazione dell'omino sulla Vespa con la pizza Quindi grande originalità, diciamo così Che veniva in qualche modo blastato dai giocatori del Porto E quindi perdeva il controllo della Vespa e la pizza cadeva Questo uomo con il foulard dell'Inter E chiaramente una comunicazione molto diversa rispetto a quella che abbiamo portato avanti noi Sui nostri canali in cui abbiamo dato pareteticamente importanza all'avversario E dignità all'avversario rispetto a quanto fatto E che dire, come quella volta della rimontata a Barcellona Questa comunicazione si rispecchia e si rivolta indietro Al di là della comunicazione sulla quale sono contenta a questo punto di non essermi espressa E farlo solamente dopo la vittoria Visto che alla fine in qualche modo aveva ragione E aveva ragione chiunque abbia detto che forse questa era farla un pochino fuori dal vaso Ora chiaramente questo è un ottimo risultato per le squadre italiane Mi auguro senza partigianerie che vadano avanti tutte Compresa la Lazio che sta un po' stentando nelle coppe Questo significherebbe molto e significherebbe anche, scusatemi, ma dare un segnale a chi dice Che senza la Juve il calcio italiano è perso Chiaramente non dobbiamo illuderci come abbiamo fatto con gli europei Che tutto sia a posto, che siamo guariti eccetera 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 Ma sicuramente è un bel segnale Ora non esistono squadre facili da prendere Non lo era neanche il Porto Ma sicuramente diventa problematica qualunque squadra in questo momento Personalmente la preferenza forse può andare al Chelsea, al Benfica Anche con le squadre italiane non la vedo benissimo Se certo Peschi, Real Madrid, Manchester City o Bayern per me è chiusa Però intanto siamo arrivati a giocarci, a prendere 20 milioni A giocarci su questi palcoscenici Detto questo, che non mi si venga a dire che non è importante avere un portiere forte E che è uguale giocare con Andanovic Lo dico da grande fan di Andanovic Questo era il mio commento Fatemi sapere come l'avete vista e vissuta voi Questo non significherà nulla sulle prossime partite Come ben sappiamo siamo un pochino altalenanti Ma lo vedremo Stop whining